In pochi anni, è stato identificato solo nel 2009, il fungo Candida auris rivela una resistenza ai trattamenti farmacologici così elevata da meritare il titolo di fungo killer. Che fosse un giramondo, gli scienziati lo avevano compreso fin da subito. Tracce furono rinvenute contemporaneamente, ma in modo indipendente, in Sud America, Sud Africa, India. La Candida auris è un lievito particolarmente virulento, prospera in ambienti ospedalieri e comunitari, quando due anni fa negli Stati Uniti e in Gran Bretagna fu lanciato l'allarme e furono predisposte le prime operazioni di bonifica su larga scala. Tracce di Candida auris furono ritrovate su suole delle scarpe, pavimenti degli ospedali, sedie, fin anche sui contenitori dei disinfettanti appesi agli ingressi dei reparti. Il fungo è refrattario all'ammoniaca, resistente alla maggioranza degli antifuggini. Nei soggetti già debilitati in associazione con altri lieviti, nel 30% dei casi, può portare a morte in meno di un mese. Uno studio, recentemente pubblicato, ipotizza che il riscaldamento globale abbia giocato un ruolo chiave nell'ascesa del fungo dai superpoteri. In sintesi, il microorganismo si sarebbe adattato molto bene all'aumento delle temperature del pianeta, tanto da predisporsi sempre più ad infettare l'essere umano. Avrebbe violato, cioè nel tempo, la cosiddetta zona di restrizione termica dei mammiferi, quella barriera che, almeno in teoria, impedisce agli agenti infettivi di contagiare. Lo studio è ancora all'inizio, ma ne sentiremo parlare.